A Teramo la ricostruzione comincia a decollare, definite già 1.550 pratiche relative all'edilizia privata, mentre per quella pubblica a fine mese saranno appaltati i lavori riguardanti il Palazzo della Prefettura. L'intervento più importante però riguarda l'adeguamento sismico dell'intero patrimonio scolastico del Comune di Teramo, per l'esattezza 18 scuole tra elementari e medie, che è stato finanziato con 70 milioni di euro. Il simbolo di questa ripartenza è l'apertura del cantiere della scuola elementare di Villaripa, il primo di una lunga serie. Tra soli tre mesi l'edificio scolastico tornerà ad ospitare una sezione di 20 bambini dell'Istituto Falcone e Borsellino. Sarà tutto ricostruito e adeguato sismicamente, sia con l'ordinanza Teramo, questa è la prima scuola dell'ordinanza Teramo, la prima di una lunga serie con l'obiettivo di aprire tutti i cantieri nel 2022 e nei primi mesi del 2023, e poi abbiamo ottenuto con un'altra ordinanza il finanziamento di tutte le altre scuole per un importo complessivo di 70 milioni di euro. Finalmente, grazie al lavoro di questa amministrazione, grazie al lavoro congiunto con l'USR, con la Regione e soprattutto con il commissario Legnini, abbiamo tutto il patrimonio scolastico cittadino finanziato per l'adeguamento sismico. Quando torneranno a scuola questi bambini di Villaripa cosa troveranno? La scuola di Villaripa si presta ad una educazione assolutamente innovativa che riesca a tirar fuori i bambini dalle aule strutturate e far vivere loro socializzazione ed apprendimento all'esterno, attraverso delle aree che andranno strutturate e predisposte al loro apprendimento. Quindi orto botanico, sentieri sensoriali, il riciclo, ma anche l'approccio alla matematica, alla lettoscrittura, attraverso una maggiore consapevolezza del controllo del proprio corpo che all'aperto rende tutti più socievoli e più felici. Che tipo di intervento avete fatto su questa scuola? Diciamo che era iniziato tutto come un miglioramento sismico. In corso d'opera abbiamo dovuto modificare ovviamente l'attività che doveva essere svolta in un adeguamento sismico con una scuola che sarà totalmente antisismica, rifunzionalizzata sotto il profilo energetico ed impiantistico, cioè quindi sarà tutto tondo. La scuola nel giro di tre mesi sarà riconsegnata, questa è la tempistica prevista dal contratto e a settembre ci saranno i ragazzi che potranno venire veramente in un ambiente sano, pulito e che dà un segnale di ripartenza e di speranza. Il cantiere della scuola di Villa Ripa è stato benedetto dal Vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi che ha ricordato la differenza tra chi distrugge e chi costruisce. Noi siamo un popolo che costruisce. Noi siamo un'applicazione. Noi siamo un'applicazione.